in questi sei anni ho consegnato la mia sceneggiatura olio su mela a tutti veramente sono tu che ti cerco qui nel bosco ah mo stiamo a villa borghese beh diciamo che nel campo della calzatura mi sento la più competente quello si sa un po' superbia lui si chiama sanis jacquim bonplap del pioppo e è tipo mezzo greco la madre francese il padre invece è umbro però non è bizzante devono scopare sempre ho capito una fatica però eh vabbè ma perché quanto vi basta voi? un'oretta un'oretta tia che minchia fai un'oretta? e io dopo un po' dico gioia mia mi devi mandare a casa tesoro tu gliela devi abbassare la sicurezza ok? e fai tipo amore ma che te sta venendo la stempiata sono troppo carina amore io ti amo pure se tieni la pelata mi ci spegne la quali ma il colore della pelle conta potremmo fare direttamente forse a Londra quando a Londra? a Pantelleria da Pantelleria posso che mi dai una data? una data Sara con i beduini le stelle una coordinata non lo so argentario non ce lo diciamo non me ne frega niente se mentre rimango indifferente mi trovate qua? la mia è una bella storia non me ne frega niente di niente sognami mi devi sognare niente di niente Grazie a tutti.